Vorrei avviare la mia introduzione ai lavori di questo Consiglio Episcopale permanente con una scena biblica. La traggo dal Libro degli Atti degli Apostoli. Si tratta dell'inizio della predicazione di Paolo a Corinto, la comunità che portava l'Apostolo fino alle lacrime, attraversata da divisioni e personalismi, in una città incontro di culture diverse con le quali si misurava la piccola comunità. L'Apostolo incontra accoglienza, come quella presso la casa di Aquila e Priscilla, ma anche una forte opposizione. Possiamo immaginare i suoi dubbi. Come annunciare il Vangelo del risorto a gente diffidente, catturata dal presente, con una comunità divisa? Quale sicurezza? Cosa fare con la creta delle mediocrità e delle limitatezze umane? Durante questo travaglio Paolo viene raggiunto di notte da una rivelazione divina. ed è questa quella che mi sembrava così da proporvi. Non aver paura. Continua a parlare e non tacere. Perché io sono con te, nessuno cercherà di farti del male, in questa città io ho un popolo numeroso. Credo che il maggiore esperto qui di noi, degli atti degli apostoli, è Don Giuseppe, però ci riserviamo poi. Vabbè, no, no, resta, resta. Abbiamo sentito quella del sinodo degli atti, era molto bella. Anche per noi c'è un popolo numeroso nelle nostre città, molto più di quanto misuriamo con categorie spesso vecchie, giudicando con indicatori ormai superati, che non ci fanno accorgere di tanti segni importanti. Quando ho scritto questo pensavo una cosa, che non so se qualcuno di voi ha visto, lo stemmino con cui, non vuol dire chiaramente un po', però come sono cambiate le cose, lo stemmino con cui la CGL è andata dal Papa. E c'erano le due bandiere, CGL e Santa Sede, incrociate con sotto pace e fraternità, una cosa del genere. E stando a Bologna, ho pensato ai vecchi della CGL, con la bandierina, il mondo è cambiato, decisamente è cambiato. Lo percepiamo anche, mi sembra soprattutto, dall'attenzione verso la Chiesa e i suoi ministri. Lo vediamo in alcuni momenti particolari della vita delle persone e della società. Faccio alcuni esempi, poi credo che ognuno di noi ne ha tanti, anche rivelatori, sorprendentemente, di tanta attenzione. Ad esempio la scomparsa di fratello Biagio Conte a Palermo, un giovane ricco, convertitosi a missionario del Vangelo e amico dei poveri, profeticamente alternativo, è vicino alla gente comune e ha suscitato in modo sorprendente attenzione attorno alla sua figura, non solo a Palermo. La santità e la carità attraggono. Monsignor Lorefici, arcivescovo di Palermo, ha detto, era un diffusore di speranza, un uomo infuocato dell'amore di Dio ed un pino vetrano, compagno di fratello Biagio, ha commentato, esaltandolo, oggi ci testimoni che la mafia si può vincere, con la santità e la vita. Avere una visione larga del popolo, sapere che già c'è un popolo di Dio nascosto, non è consolatorio e illusorio, ma missione larga e dialogo rinnovato. Continua a parlare e non tacere, per far emergere questo popolo attraverso la relazione con ognuno e questo permette alla comunità di essere un corpo, di capire l'unità che valorizza l'individuo per non ripiegarsi, ma trasmettere fede, simpatia, speranza e solo l'unità permette alla comunità di essere creativa. potrebbe anche essere, quindi ogni divisione in realtà ci fa essere molto meno creativi. Il cammino sinodale sta raggiungendo il completamento della prima fase, quella dell'ascolto, ne parleremo dopo, e ci restituisce tante attese, desideri e un'immagine dolorosa, ma realistica, delle nostre Chiese. Queste non debbono mai dimenticare l'orizzonte largo con cui pensarsi e continuano a cercare il dialogo con i nostri compagni di strada, con quel popolo numeroso indicato all'Apostolo. San Paolo, che portò il Vangelo oltre i confini della Palestina sino ai confini della Terra, ci incoraggia a non avere timore di quello che oggi chiameremmo cambio di paradigma. Molti, soprattutto laici, esprimono il disagio per forme ecclesiali sentite come poco partecipative. Anche i nostri presbiteri, ci comunicano la fatica di mantenere l'attività in cui un tempo erano impegnate forse ben più cospicue. Credo che tutti quanti i nostri annuari a Bologna lo chiamano il Cassolino, perché è un certo Monsignor Cassoli, per cui si chiama tutto, ma quando mi disse vediamolo il Cassolino, io non capivo che cos'era questa cosa del Cassolino. Insomma, è chiaro che diminuiscono, cambiano molto nella sua nella nella nelle pagine e anche nelle composizioni. Ricorrono, nel cammino sinodale, parole chiave come comunione ecclesiale, partecipazione dei laici, razionalizzazione delle forze, scelta di priorità, decisioni da prendere. Spesso la tentazione non è avviare percorsi, ma elaborare programmi, non discernere, ma aspettare la soluzione, non la ricerca, ma la sicurezza. E di questo dobbiamo tenere anche conto, credo. Il cammino sinodale ci aiuterà senz'altro a trovare le risposte adeguate e necessarie, ma solo nella tensione apostolica dell'Apostolo, che vuole raggiungere tutti e costruire comunità vive. Cioè, non è il contrario. Qualche volta la tentazione è cercare subito la sicurezza e non vivere, appunto, capire l'attenzione apostolica e viverla nella carne dei tanti incontri, no? Questo richiederà di identificare alcune priorità, soluzioni creative e rispondenti alle tante attese delle nostre comunità e del popolo numeroso a cui svelare la presenza di Dio che già è nella loro vita. È un dono per me e per noi riunirci insieme, dico proprio personalmente, alzare lo sguardo, guardare oltre, anche un po' guardarci tra di noi, ascoltarci, cercare e scambiarci le nostre opinioni e preoccupazioni, la nostra sensibilità alla ricerca di una visione o nella conferma di questa. Ne abbiamo bisogno perché qualche volta, come Marta del Vangelo, più che la visione che apre il cuore a Maria ci sentiamo, anche non volendolo, diciamo per forza, catturati dai molti servizi oggettivi che finiscono per diventare una prigione dalla quale non sappiamo affrancarci. Alcune discussioni, calcoli e polarizzazioni nascono da questo atteggiamento. Sulle polarizzazioni in genere si perde anche il buon senso. Marta verifica subito la propria utilità, si sente poco aiutata e rivela amarezza e recriminazione. Forse i piedi di Gesù non è una cosa in più da fare o smettere di farne altre, ma libertà interiore per mettere al centro quello che serve per davvero e che non ci viene tolto. quando non ascoltiamo Gesù inevitabilmente diventano importanti le cose piccole che riempiono la vita ma svuotano il cuore quando ascoltiamo meno Gesù e il mondo soffre di mancanza di visione. Il Papa Francesco propone una lettura problematica del mondo globale, l'umanità trascinata da una mano invisibile in cui diventa difficile fermarsi per recuperare la profondità della vita e la sua visione di fratelli tutti e di una Chiesa comunione ci permette di non lasciarci trascinare dagli affanni e la visione non è solo un progetto ma ben di più talvolta anche da un punto di vista personale ci sembrano esaurire le nostre possibilità e allora alzo gli occhi verso i monti da dove mi verrà l'aiuto il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra e non stanchiamoci di alzare gli occhi e anche di aiutarci a farlo strappandoli dall'onipresente io dalle sue infinite interpretazioni che non aiutano a risolvere il vero problema del suo significato che è trovare il noi per chi vivere quindi un noi largo alzare gli occhi c'è necessario per capire oggi il nostro popolo tutto quello prossimo e quello più lontano ma che per questo non ha voltato le spalle al Vangelo è più complicato è la folla che sempre accompagna Gesù e che lo muove a compassione questo consiglio permanente affronteremo come sempre alcuni problemi necessari di governo anche di sistema sappiamo quanto importanti insieme compiamo l'esercizio sempre però di guardare oltre e di guardare intorno chiedendoci cosa il popolo porta nel cuore quali le sue preoccupazioni e la sua ricerca sempre coinvolti dalla compassione di Gesù per le pecore stanche e sfinite perché senza pastore altrimenti tutto si esaurisce nelle discussioni interne e non nel ripensare l'interno in chiave missionaria e di farlo sulle nostre misure e non cambiare queste su quanto è richiesto alzando gli occhi all'orizzonte vediamo i lampi della guerra in Ucraina iniziata dall'invasione russa di uno Stato indipendente è una storia di espressione di una crisi gravissima nelle relazioni internazionali tanto ad avere sullo sfondo persino la minaccia atomica non possiamo abituarci a convivere con la guerra in Ucraina non possiamo accettare l'indifferenza evidente raffinata come se la guerra fosse una malattia ineduttabile Papa Francesco cui inviamo la manifestazione del nostro affetto della nostra comunione del nostro comune sentire ha affermato con il suo profondo pathos per la pace con la guerra siamo tutti sconfitti tutti noi in qualsiasi ruolo abbiamo il dovere di essere uomini di pace nessuno è escluso nessuno è legittimato a guardare da un'altra parte ribadiamo la necessità della pace e l'urgenza di raggiungerla innanzitutto per amore del popolo ucraino ogni giorno che passa significa morte lutto odio la guerra è terribile contagia nel mondo globale provoca tante sofferenze nel mondo intero come vediamo con la crisi alimentare che fa pagare un prezzo a popolazioni inerme e lontane causa un riarmo preoccupante e pericoloso insieme a ricadute belliche in altre parti del mondo come la Siria il caucasso il mondo deve porre fine a questa guerra e affrontare seriamente gli altri conflitti aperti che sono meno sotto gli occhi di tutti ma pure così dolorosi e con scumento assistiamo all'uccisione dei sogni delle giovani generazioni e sentiamo il dovere di esprimere la solidarietà verso questa gente che chiede libertà e giustizia sorge la domanda profonda e urgente per tutti specialmente per i credenti che significa essere uomini e donne di pace cosa significa educare alla pace ed essere artigiani di pace il Papa ci offre un esempio con le sue parole e i suoi gesti cioè non è una cosa in più evidentemente è centrale è un altro segno dei tempi così importante come è stato il Covid per certi versi lo è oggi questa pandemia i suoi insistenti inviti e le sue riflessioni appelli la sua commozione nel giorno dell'immacolata esprimono l'ansia personale e l'urgenza della pace nel recente discorso ai membri del corpo diplomatico accreditato presso la santa sede il Papa ha ricordato che la pace è possibile alla luce di quattro beni fondamentali la verità la giustizia la solidarietà e la libertà ma l'interrogativo riguarda la Chiesa e noi tutti anzitutto la nostra preghiera ovviamente lamento di intercessioni innanzi a Dio e protesta contro la guerra e le nostre comunità le nostre liturgie dominicali debbono risuonare insistentemente di preghiera per la pace mai dimenticare la forza della preghiera questa dimensione orante tanto decisiva nella Chiesa che Clemente ed Alessandro chiamava Eire Nikon Genos una stirpe pacifica il Papa Benedetto XV aveva mandato durante la prima guerra mondiale la richiesta di pregare tutti quanti per la pace ha fatto modificare le preghiere tanto che ebbero tanti problemi anche per questo perché ognuno pregava per la sua vittoria invece faceva pregare per la pace ecco un'intuizione importante che Benedetto XVI che da lui da Benedetto XV ha preso il nome ha proposto all'attenzione della Chiesa e quella delle minoranze creative per certi versi ritorno al discorso di Corinto di Paolo colgo l'occasione di questo richiamo per esprimere il nostro dolore per la sua recente scomparsa nonostante fosse sazio di anni e di una vita carica di bene per la Chiesa l'umanità e la cultura davvero gli siamo grati per il suo servizio generoso alla Chiesa per i suoi quasi otto anni di ministero come vescovo di Roma primate d'Italia papa della Chiesa universale e amato l'Italia come sua seconda patria e la sua Chiesa anche se minoranza la Chiesa non può cercare riparo nella chiusura come se unica via sia estranearsi dal mondo e la distanza garantisca la salvezza dell'identità non vogliamo nemmeno accettare svogliatamente di essere minoranza in fondo con la paura di prenderci responsabilità e di essere creativi lo diventiamo se uniti e se pieni di spirito una minoranza creativa docili a questo anche per non finire catturati dalle preoccupazioni interne quando c'è solo minoranza e non creativi cominciamo a discutere di più senza andare dove ci manda Gesù che ci ha chiamati per sederci con lui finiamo per discutere inevitabilmente su chi è più grande o nel vittimismo di Marta la minoranza non è solo l'espressione di una progressiva riduzione oggettiva ma esprime una volontà autentica di vivere il Vangelo capace di energie e di bene che si riversano sulla società intera che è sempre il suo orizzonte del resto la nostra è una società di minoranze di frammenti se non di tante isole le solitudini del Dio è guai quando questo avviene anche nelle nostre comunità la Chiesa deve ritessere il senso comunitario in una società dell'Io e delle stranità richiamando un destino comune questa visione della minoranza creativa è tutt'altro che contraddittoria con quella di Chiesa di Popolo di cui è testimone Francesco anch'essa è una realtà del nostro Paese come manifesta la pietà popolare una Chiesa di Popolo è una realtà che non pone confini dogane disse all'inizio Francesco una Chiesa di Popolo per il popolo della città certamente ci interroga la pressione della partecipazione dei cristiani alla messa domenicale dopo la pandemia qualcuno vi ricordate l'altra volta diceva insomma di che stiamo parlando siamo quasi la metà qualcuno di noi ma dobbiamo sempre pensare che i nostri confini sono ben più larghi e che la Chiesa non finisce sulle sue soglie quest'anno si compiono i 75 anni della Costituzione compiuti i 75 anni della Costituzione Repubblicana entrata in vigore il primo gennaio del 48 nata dal ripudio del fascismo e della guerra ma anche dalla volontà di guardare insieme il futuro varie riforme sono possibili e in discussione ma la principale resta vivere nello spirito e applicarla fino in fondo in tutte le sue parti insomma tutto lo spirito non è difficile vedere in essa il sentire comune profondo proprio della dottrina sociale della Chiesa il valore normativo della persona motiva l'architettura dei poteri ed esido ricordare come anche come si compie quest'anno nel mese d'agosto il centenario dell'omicidio di Don Giovanni Minzoni l'arciprete di Argenta lo ricordiamo con rispetto e affetto anche per dire che i sacerdoti sanno vivere e morire per il loro ministero lo abbiamo visto durante e dopo la seconda guerra mondiale penso anche a tanti nella mia regione lo abbiamo ma non solo lo abbiamo vissuto di fronte alle minacce della mafia e della camorra e scriveva Don Minzoni a cuore aperto con la preghiera che spero mai si spegnerà sul mio labbro per i miei persecutori attendo la bufera la persecuzione forse anche la morte forse la morte per il trionfo della causa di Cristo la religione non ammette servilismi ma il martirio così vivono e muoiono i preti diceva anche un altro della bassa questa memoria incoraggia noi i preti italiani che travolta ci interroghiamo su tanto lavoro e ci sentiamo quasi abbattuti i nostri predecessori hanno resistito al male e hanno creato il bene in situazioni tanto difficili e ci inseriamo quindi in una lunga catena di servitori del Vangelo e del popolo italiano che si sono spesi con fedeltà e creatività sociale e pastorale e poi la memoria di un altro prete in tutt'altra situazione storica di cui ricorre il centenario della nascita Don Lorenzo Milani in questo 2023 ci aiuta a guardare il futuro di Don Milani ha detto Francesco la sua era un'inquitudine spirituale alimentata dall'amore per Cristo per il Vangelo per la Chiesa per la società e per la scuola che sognava sempre più come un ospedale da campo per soccorrere i feriti per recuperare gli emarginati e gli scartati specialmente i giovani la sua memoria ci aiuta ad avere rinnovata passione per i giovani tante volte i vescovi italiani sono intervenuti sulla scuola e sull'emergenza educativa la scuola è il laboratorio del futuro di un paese in cui si prepara il domani dove vanno investite le energie migliori e le risorse necessarie in essi si rivela il desiderio di futuro e maggiore pressione sugli adulti perché prendono subito decisioni lungimiranti e quindi richiedono sforzo un cambiamento notevole lo vediamo con le richieste a volte scomposte di rispettare il pianeta in cui viviamo e a questo proposito Papa Francesco scrive nel laurato si la coscienza della gravità della crisi culturale ed ecologica deve tradursi in nuove abitudini e i giovani hanno una nuova sensibilità ecologica e uno spirito generoso e alcuni di loro lottano in modo ammirevole per la difesa dell'ambiente ma sono cresciuti in un contesto di altissimo consumo e di benessere che rende difficile la maturazione di altre abitudini per questo ci troviamo davanti a una sfida educativa e forse anche possiamo rappresentare tanto un'alternativa lo siamo questo è il nostro compito di pastori un compito che riguarda la formazione della coscienza ad un'ecologia integrale che guarda all'ambiente ma soprattutto alle persone che in questo ambiente vivono si tratta di raccogliere la sfida di un cambio anche culturale in atto nel nostro paese e questo non riguarda solo i giovani ma ovviamente soprattutto gli adulti e gli educatori in genere da questo punto di vista l'ampia rete delle scuole cattoliche dovrebbe essere percepita come un'alleata e non come un'avversaria della scuola pubblica anche creando sinergie collaborazioni progettualità comuni per la crescita del sistema scolastico ed educativo in questo contesto è importante ricordare anche il ruolo degli insegnanti di religione cattolica che hanno l'occasione straordinaria di intercettare le domande di senso dei ragazzi in età scolare e offrire loro chiavi di lettura importanti per tutta la loro vita certo vorrei ricordare anche il problema però di tanti italiani che lasciano il paese spesso giovani nel 2020 160.000 persone di cui 120.000 cittadini italiani che è una città ci dobbiamo interrogare su una società non accogliente verso i giovani perché accoglienza è parola chiave e spesso si ha paura di accogliere il futuro che è vita è la paura dell'accoglienza alla vita che porta tragicamente alla soppressione di essa nel grembo della madre grandi e impegnative sfide per il bene dell'Italia aspettano il nuovo governo cui rinnoviamo i migliori auguri assicurando che la Chiesa in spirito di cooperazione continuerà il suo impegno per l'intera comunità italiana per i più deboli per la coesione della società per l'educazione e il bene comune guardando da vicino le persone che ci circondano non possiamo non rilevare i morsi della crisi economica in atto la povertà del nostro paese è aumentata in modo considerevole a partire dalla crisi del 2008 e con essa la diseguaglianza dei redditi della ricchezza e dell'opportunità prezioso è il lavoro che Caritas Italiana con altri uffici la conferenza episcopale sta facendo un monitoraggio della situazione avanzando anche proposte nel merito la pandemia che ancora mostra terribili colpi di coda è stata una calamità che ha provocato tante e troppe morti e toccato con dolore tante famiglie e comunità a motivo poi della crisi bellica il nostro paese sta pagando gli aumenti dei costi dell'energia anche le parrocchie che intaccano il potere di acquisto di famiglie e sentiamo la decisiva la programmazione del PNRR e la preoccupazione che questo sia davvero la costruzione di un sistema di strutture e infrastrutture capaci di dare sicurezza per il futuro di vincere il precariato e offrire speranze e garanzie questo richiede una determinazione e una collaborazione unica uno sguardo largo verso il futuro non ridotto al contingente e piegato a interessi di parte o speculativi di fronte alla povertà e alla fragilità diffusa nel nostro paese occorre una costante vicinanza delle nostre chiese alle famiglie alle imprese al mondo del lavoro oggi un lavoratore su otto ha un ingaggio precario mal pagato che non consente un tenore di vita adeguato alla dignità della persona e alla costruzione di un progetto di vita personale e familiare le associazioni del mondo cattolico del terzo settore la stessa conferenza episcopale sono pronte a collaborare con le autorità competenti per valutare e proporre strumenti adeguati a disegnare un sistema di welfare che migliori l'opportunità di inclusione sociale e lavorativa per ciascuna tutti ci rendiamo conto il problema della demografia di come il popolo italiano invecchi la crisi demografica da tempo ci attanaglia già nel 2011 il progetto il progetto culturale della CEI quindi più di 10 anni fa aveva pubblicato un importante volume sul cambiamento demografico con prefazione dal cardinal Ruini è un tema che impegnerà anche questo governo il problema è che ci sono tanti avvisi tante 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 segnalazioni e poche decisioni cioè non è che non si sa non è che è una scoperta che facciamo oggi forse il vero problema è decidere oggi tanto più pensando a PNRR quindi a qualcosa di decisivo per il futuro è un tema quindi che impegnerà anche questo governo per cercare misure che favoriscano le nascite pur consapevoli che per invertire il trend della natalità è necessario tempo e dovremo passare attraverso un inverno demografico ci siamo la natalità è la proiezione di una società verso il futuro possiamo domandarci se sia un sintomo o una causa ma in ogni caso la risposta che la comunità intera deve dare è invertire la rotta se vengono meno le risorse nuove in una società sono a rischio la tenuta del welfare la sostenibilità del sistema previdenziale il sistema sanitario e il PIL non può che decresce con conseguenze devastanti sotto il profilo dell'occupazione dell'imprenditoria insomma non c'è tempo o meglio questo è il tempo non c'è tempo per ulteriori ritardi nell'improntare una seria politica di rilancio della natalità a livello nazionale con grande soddisfazione accolgo la volontà del governo di riprendere le fila della legge delega per le politiche in favore delle persone anziane cioè 14 milioni di cittadini tese a un riequilibrio tra spesa ospedaliera e servizi sul territorio in un'efficace integrazione sociale sanitaria assistenziale un continuum assistenziale che inizi da servizi di rete inclusione sociale digitale da un'assistenza domiciliare continuativa e veramente integrata sono le citazioni da cure palliative da centri diurni e infine da una residenzialità capace di cure di transizione da ospedale verso casa e capace di una presenza di piccoli comuni incluse le importanti aree interne che non devono essere dimenticate ed è un elemento importante anche la seconda sottolineatura l'approvazione del piano di potenziamento delle cure palliative al fine di raggiungere entro il duemilaventotto il novanta per cento della relativa popolazione il che vuol dire che non è raggiunta ovviamente così come l'innalzamento delle pensioni minime la revisione dei limiti per l'accesso alla pensione di donne e uomini il mantenimento di meccanismi di flessibilità che promuovono la libertà di scelta del lavoratore migliorando la sostenibilità del sistema il paese ha bisogno anche di rigenerare e mantenere nel tempo la propria vitalità sociale ed economica favorendo con i mezzi più appropriati appunto l'equilibrio demografico la difficoltà in particolare nel raggiungere requisiti minimi rispetto al binomio lavoro e casa per diventare economicamente indipendenti e formare un nucleo familiare è tra le preoccupazioni maggiori che i giovani esprimono in tutte le indagini che sondano le loro condizioni all'inizio era precariato dal lavoro e dalla casa che non c'è appare indispensabile un grande sforzo al riguardo per garantire sicurezza abitativa capace di dare dignità alle persone e generare vita e se c'è casa c'è vita è più facile le nuove generazioni non devono essere vincolate ad adattarsi al mondo di oggi a quello che il presente offre ma incoraggiate a mantenere alta l'ambizione di cambiare la realtà per costruire un futuro proprio e quello degli altri più in sintonia con i propri desideri e potenzialità ultime cose nel messaggio per la giornata della vita abbiamo sottolineato come avanzi una cultura della morte si risolvono i problemi eliminando le persone accogliere è parola decisiva nella nostra visione della vita orientata al futuro siamo tante volte intervenuti sulla questione dei migranti e dei rifugiati e si tratta di comprendere con responsabilità e umanesimo un fenomeno che è una realtà del nostro mondo globale da non gestire con paura e come un'emergenza ma come un'opportunità e quindi uscire da una visione solo di sicurezza tale problematica richiama la centralità della scuola spazio decisivo di integrazione nella cultura e nella lingua italiana ma anche la necessità di maggiori flussi regolari di ingresso di corridoi umanitari e di congiungimenti familiari soprattutto è importante come accogliamo non facciamo vivere umiliazione tempi lunghi di attesa viaggi infiniti anticamera senza senso marginalizzazione siamo consapevoli come queste e tante altre problematiche italiane non possono non possano essere affrontate senza guardare all'Europa è ovvio ma va sempre ricordato la chiesa così radicata nella storia e nella cultura europea ricorda gli europei che non possono vivere per se stessi l'accoglienza di migranti e lavoratori chiede di essere organizzata su incontro fra domanda e offerta di lavoro e infine non dimentichiamo anche il problema di circa 500.000 persone anche lavoratori non regolari però in Italia rileggendo il libro degli atti colpiscono i fallimenti di Paolo l'idea che il suo annuncio del Vangelo sia stata sia stata una cavalcata trionfale è impropria non possiamo nascondere che anche il nostro presente è disseminato di comportamenti e di eventi che contrastano chiaramente con il Vangelo penso alla questione della pedofilia e degli abusi in genere che purtroppo riguarda membri della Chiesa istituzionale o persone legate più o meno direttamente a noi ma riguarda soprattutto tante donne e tanti uomini nostre sorelle e nostri fratelli che sono profondamente feriti da un male che ha le sue radici nell'uso distorto del potere e che mina alla radice la fiducia nella vita negli altri nella Chiesa del Signore stesso plaudo al lavoro svolto con sapienza dal Servizio Nazionale per la tutela dei minori della CEI che lo scorso 17 novembre ha presentato il primo report nazionale sulle attività di tutela nelle diocese italiane ne va dimenticato l'accordo sottoscritto il 28 ottobre dalla CEI con la Pontificia Commissione per la tutela dei minori per combattere in modo sempre più efficace gli abusi sessuali all'interno della Chiesa si tratta di passi certo appunto di passi che come Chiesa in Italia dobbiamo e vogliamo continuare a compiere con fermezza con responsabilità per stare dalla parte dei più fragili e per far crescere una cultura per tutti la cultura ovviamente non soltanto per noi caratterizzata dal rispetto dalla cura e dalla tutela della dignità di ogni persona guardando l'esperienza di Paolo come emerge dal brano degli atti 18 e altrove mi chiedo cosa ha veramente fatto la differenza qual è l'eredità che lascia la storia dopo di lui l'autore di atti scrive che quando si posero le condizioni favorevoli Paolo cominciò a dedicarsi tutto alla parola da una parte lavora e fa di tutto per meritare l'accoglienza degli amici dall'altra parte sa che la sua priorità consiste nel portare a tutti la luce della resurrezione di Cristo le sue energie devono essere spese per un compito alto aiutare la gente di Corinto ad andare oltre gli affari ad aprirsi a un orizzonte di trascendenza in particolare si tratta di predicare la buona novella di Cristo morto e risorto per tutti abbiamo appena celebrato la domina della parola di Dio quest'anno dedicata al tema Bibbia e missione l'annuncio del Kerigma di Gesù morto e risorto continua a passare dalla testimonianza personale da uno stile di vita coerente con il Vangelo si può anche non essere accettati ma almeno si diventa un punto interrogativo e un indice rivolto verso l'alto tutti cercano sempre le risposte ai grandi interrogativi della vita e in tanti modi le pandemie lo hanno riproposto siamo decisamente in cammino verso la prossima Assemblea Generale ne parleremo alla luce del testo di atti e delle riflessioni che ho appena condiviso come ho potuto così possiamo fare cosa possiamo fare perché questo appuntamento diventi una reale occasione di conversione ecclesiale il mio pensiero va ad un ripensamento anche della struttura della CEI più capace di esprimere la centralità della propria di Dio e di servire meglio le chiese che sono in Italia a rafforzare e servire la collegialità tra di noi ma questo lo dovremmo fare insieme perché la conferenza episcopale prima di essere una struttura è il segno della collegialità della comunione del camminare insieme espressione di quel prendersi cura che un popolo numeroso di un popolo numeroso che ci ha affidato anche quello che non sappiamo ci sia il programma fondamentale del concilio Vaticano II era mettere a contatto il Vangelo con il mondo a servizio perché la chiesa esiste per mettere a contatto il Vangelo con il mondo e auspico che questo possa essere il desiderio di ciascuno di noi anzi sono sicuro che questo è il desiderio di ciascuno di noi in questo tempo che ci è donato grazie